Musica Sempre meglio della skin Base Ah si sta comprando Ryzen Bravo Dragon Cavalier Ti è piaciuta la live di ieri? E magari poi faccio un salto e lo riporto Non può Vabbè zombie noi ci facciamo un altro BR in coppia dai Sì sì giochiamo noi Sì Domani o domani o più tardi Tanto ancora Soltanto un'oretta di live Magari più tardi riporto Ryzen Facciamo questa partita con Con Zambi Vediamo come vanno le cose Purtroppo Non avendo il microfono Sarà un po' difficile coordinarsi Zambi quando dici te Ti fai un bel discord Dai Entri in partita Tanto non ci vuole Tanto a creare l'account Una semplice chat Come Whatsapp E tanti altri Porca Eh Cesar è tornato Grande Cesar Saper iniziare la partita Cesar Che stavi facendo Ah Toretto Anche se non vuoi giocare La partita Ti va a gustare Grazie mille Amico mio Facci compagnia Cavolo Ti si sta aggiornando Immaginavo Che hai lo stesso problema Quando ti da Come Tempi di installazione Ti ho il mio Bruttissimo vizio Di caricare Il fissile Dopo un colpo Ah stavi giocando A FIFA Bravo 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 Ah non ti dice tempo Ma Super giù la tua connessione Sai Super giù Quanti mega Scarichi I miei Giovincelli Poi ho delle proposte Da fare Ragazzi A quelli Che saranno Più assidui A seguirmi Mi sono accorto Che ho sbloccato La skin Di Minotaur Quindi L'ho inserita Allora Zambi Visto che comunque Te non mi puoi dare Una risposta Rapida Direi Di scendere Qui Dice la stazione Di polizia Vediamo Se riusciamo A guadagnare Qualcosina Lo so io Sono io Sono io Stai caldo C'è un sacco Di gender Occhio C'è un altro Qua dentro Dentro casa Giù Giù Maledizione Occhio Zambi E' lì Ho finito Le munizioni Ma che bella cosa No questo Mi piace proprio Meglio Luzi Arrivo Zambi Occhio Scusami AUG Va bene L'AUG Mi piace Lo uso Il movimento Porca puttana Non c'è nessuno Qui C'è una mina Eh ho visto La mina Ma non avevo visto Il tizio Ragazzi Quindi stai Attendo Zambi In zona E controlla Bene Perché Te lo trovi Davanti E io provo A rispawnare Vediamo Se riesco A vincerla Questi Se perdi Sei fuori gioco Elimina il nemico O conquista L'obiettivo Vaffanculo Mamma mia Mamma dio Ah ma certunio Comunque Mi ha Fracellato Guarda Cioè io Tutti sti colpi Non li ho visti Arrivare Manco a segnalare Il giocatore Perché Sarò scarso Io ragazzi Ora dovevo fare Affidamento Su zombie Zombie Io ormai Sono abituato A giocare Con quel Cacchio Di rilevatore E mi È difficile Giocarmela Invece Diversamente Occhio Diciamo Molto Della parte Tattica Me la evito In quella Maniera Occhio Zambi Proprio Sarà lì Il problema È se gli arriva Alle spalle Cesaro Se poi vuoi giocare Basta Fare un Fischio Eccolo lì Eh vabbè Erano due Erano due Poi cazzo Solo loro Sanno come L'hanno ammazzato Secondo me A Inbot Ce ne sono tanti E parecchi In questo gioco Eh lo so Zambi Immagino Cosa dovevi fare Lì era Difficilissimo Salvarsi Benvenuto Luca Carza Grazie per il Follow Tutti a tifare Zambi Eccolo Bastardo Grande Zambi Grande Ti dico subito Dove farmi Spawnare Ovunque Salvami Hai solo 200 Ah vero Ancora ti si sta Aggiornando Quindi Immagina che ci Impegherai Almeno Nezzolietta Piena E spero Che ti vada Veloce Come cacchio Si va Troppo Lontano Vabbè Poi ti indico Qua Dai L'importante È che Adesso Trovi Un po' Di Armi Forse Ho sentito Un rumore Di una Porta Cassa Chiusa Piazza La quella Mina Bravo Perché Adesso Qui Ti verranno A cercare Perché Comunque È una Zone Inesplorata Dovrebbe Essere Anche Dentro Il cerchio Si Assolutamente Luca Sei già Andato Via Non Mi Rispondi Vabbè ragazzi Zambion Pro Peccato Che non ha La giusta Compagnia Gioca Molto Tattico Purtroppo Ha bisogno Altri Mille Per Riportarmi Nel mondo Dei Viventi Ragazzi Per chi Può Ha Degli Amici Che Giocano A Warzone Vuole Portare Un po' Di Gente Amici A Seguire La Live Magari A Giocare Con Me Per Chi Vuole Unirsi Fate Pure Date Pure Anche Il mio Nick Che mi Aggiungano Alla Lista Degli Amici Cazzo Mille Dollari A Trovarli Ora Non ci Arrivo Non ci Sono Neanche Fanculo Il Cerchio Si Ristringe Cazzo 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 Con la Scusa Riscatto Una Patate Per Sempre Grande Cazzo Oggi Il tuo Omonimo Cazzo 12 Non c'è No vabbè Magari Anche se Non ce l'hanno Cazzo Come gioco Magari Però Gli piace Seguirlo Gli piace Giocarci Puoi Invitarli Alla Live A Seguirla E ti è Arrivato Il Rischieramento Tattico Zombie Quindi Volendo Puoi Andarlo A sfruttare Forse Conviene Sfruttarlo Ad esempio Lui è Abituato Ad esempio Ad affrontare Dei Camper Quindi Si muove Molto lentamente Prima di Entrare In una Stanza A differenza Mia Che corro All'impazzata Infatti Sono triste Ti spamme il canale Grande Cesar Grazie mille Ciao Teio Benvenuto 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 Ti puoi unire Se vuoi Gentilissimo Ti puoi unire Quando vuoi Tanto Stiamo aspettando Le gesta Di Di Zombie Se riesci a salvarmi La pelle Poi Ti aggiungo Subito Eh Ma ti servono Altri Quattro Altri Mille Zombie Prenditi Prenditi Vado 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 da questa Parte Rieschi Riesci A vederlo 170 metri Eccolo lì Vedo ti servono altri mille dollari Che non hai trovato Purtroppo devo uscire Se no volentieri La prossima volta Sto attento alle comunicazioni Grazie a te Io non ti preoccupare Quando vuoi te Warzone O altri giochi Dimostra Detetiva di giocare Me lo dici E Ci facciamo una partitella Insieme Oltre uno lì Guarda che stronzo Guarda che stronzo Beh ma c'è il team Prego te Io prego Purtroppo Zombie ha fatto Quello che poteva Ragazzi E niente da fare Ragazzi Anche questa andata Maluccio Ci riproviamo O proviamo La mini royale Mini royale Ti va? Ti va zombie? Ok ci facciamo L'ultima A questo punto Proviamo la mini royale Dai Vediamo Cosa riusciamo a fare Essendo mini Magari facciamo Una mini vittoria Che dici? Riusciremo? Sì vabbè Anche per me Mi sono un po' Stangato di Warzone Soprattutto perché Comunque non abbiamo Tutti questi risultati Quindi Ci annoiamo un po' Ci vuole un team serio Ragazzi Vorrei fare una squadra Con voi Se riusciamo Infatti Stavo contattando Anche altri utenti Che giocano A sto gioco E da un po' Che non vedo Online Spartan Allora Cesar Di solito Nelle live Dei miei amici Ho l'eco Però nella mia Della mia voce Si sente male Proprio quando gioco Conte con volume Da tv a zero Vabbè Può metterlo Anche a 30 Ho avuto la Quando giocavo Insieme a Hendrix Avevo pure Questo problema lì Sendo che lui Ci giocava da play Utilizzava le cuffiette Per sentire me Da discord Poi era costretto Purtroppo Ad abbassare il volume Della tv Al minimo Madonna Mini royale Dove ci porterà Secondo te Downtown Mi ha approfitto Un secondo ragazzi Quaranta secondi Da aspettare Vado Vado Spacciato tutto Prendo il foggiativo Nemico in discesa Nell'area operativa Inziano a fare male I piedini Ma che bello Sto fucile Necron Che lotta contro Gli auricolari Dai 5 secondi Zambi E l'ultima Cerchiamo di fare Bella figura Stavolta Ho i piedi in fiamme Ragazzi Da domani Di giochi in jabat Qualcuno sta demolendo Dove 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 Dici Zombie Farmland Dai E si Cesar Dovesse entrare Su discord Cazzo è Farmland Perché non me lo indica C'è un botto di gender Abbiamo un compagno Un mare Ne vedo uno lì Vado con l'angiarazzi Ma come si fa Ragazzi Guarda qui Io con la pistolina Attimamente dovremmo utilizzare Cesar L'audio La chat interna Del gioco Che deve far letteralmente Cagare Però Possiamo anche provarci Domani Ma perché non hai discord Scusami Mi hai sempre contattato Su discord Pure Vinci qui E ti rimandiamo In prima linea Se perdi Sei fuori gioco Guadagnati rientro Quando mai ragazzi Io non vincerò mai Un gulag Sono scarsissimo Che culo Che culo Questo sarà forte Almeno lo spero Seguiamo Zambi Allora Cesar dice Facciamo così Discord Me lo scarica Forse domani Perché adesso Non ho voglia E poi giochiamo Assieme Va benissimo Cesar 06 Quando Avrai la possibilità Oh Madonna Sei circondato Zambi Stai attendo Cerca Un riparo Mi sembra di averlo visto lì È lì Stai attento Guarda Guarda Dove lo stronzo Che cazzo Di mira Di merda Che hanno Sti cazzo Sti fucili Dei potenziati Ah vero Te mi avevi contattato Su Instagram Sì sì Hai ragione Comunque Prendilo Discord Comunque Molte delle decisioni Del canale Sia di Twitch Che di Youtube Vengono prese Tramite Discord Perché comunque È l'unico modo Per avere Il gruppo Di gente Online Sapere dove Trovarvi Senza dover Aspettare Chissà quando Io posso scrivere La qualsiasi Su Youtube Ma non so Chi risponde Alla chiamata Mentre su Discord Mando anche Messaggi privati A ognuno di voi Vi dico Ragazzi Avete intenzione Di giocare Fare qualcosa insieme Quindi può funzionare Allora io Vi rimando di nuovo Il ping Per vedere Se riuscite a Salvarmi Dovesse mettere I soldi Insieme Faglielo capire Zambi Che Ha Ha Di Z Che ci servono I suoi soldi Tipo squadra Tattica Loro entrano Dentro Bravissimi Ops Eccesso Sta arrivando Si sta chiudendo La safe Sta mettendo NEMICI 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 NELL'AREA Iscritti Diciamo Quelli che Seguite La live Più assiduamente E' una piccola Proposta Che voglio farvi Vai Zambi Guarda Ce l'hai lì Sono un team Siamo In due NEMICI NELL'AREA No Perché ha sparato Poteva aspettare Qualche secondo Questi brutti Monelli Non voglio Rischierarmi Ce l'avevano lì Ora Sono lontanissimo Qualcuno dietro Qualcuno dietro Primo piano Atterrato NEMICI NEMICI NELL'AREA Finita per zambi Purtroppo Vediamo Se Dzzzz Resiste E' uno Era là Era all'angolo Lassù Cioè Non l'ha neanche Atterrato Riesci a togliere lo scudo Ma poi col rinculo Lo freddo Una granata di merda Non ce l'hai Sono quattordicesimi Ragazzi Senza giocare Io Va benissimo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione!